bella raga bentonati a un nuovo video questo video è poco perchè apriremo solo una mega cassa beh avviamolo a brostars se vedete poche cose perchè ho perso il mio account i think i wanna see a me ok ok ora possiamo aprirla vai sto facendo con il naso così mi porta fortuna e gg vabbè raga il video già è finito perchè l'abbiamo aperto e potenziamo perli ed è tutto iscrivetevi attivate la campbellina bella